L'occasione di Salone del Gusto è anche quella di presentare il nostro progetto Mangia Bink, infatti tutti i giorni a mezzogiorno ci saranno alcuni ristoranti della selezione Mangia Bink che cucineranno e presenteranno i loro piatti nel nostro stand. Mangia Bink è una selezione di ristoranti tipici piemontesi in cui premiamo il fatto di avere in carta almeno il 60% di prodotti locali e almeno il 60% di vini del Piemonte e il 10% di vini della provincia di Torino. Questo perché vogliamo premiare anche il concetto di filiera, quindi vogliamo far sì che non solo si conoscano i prodotti ma si mangiano quegli stessi prodotti all'interno dei nostri ristoranti. Il progetto lo abbiamo sviluppato assieme alle due associazioni dei ristoratori, Ascomi e Confesercenti e prevede anche la pubblicizzazione negli alberghi perché spesso chi viene a Torino chiede magari al portiere dove posso mangiare piemontese, in questo modo scannerizzando un QR code all'ingresso dell'albergo sarà semplicissimo avere tutte le informazioni. Inoltre facciamo anche 4 weekend a tema su prodotti specifici e anche questi vengono pubblicizzati e fatti conoscere. L'invito quindi è a visitare il sito dentro il sito della Camera di Commercio di Torino ma soprattutto a visitare e a provare i ristoranti Mangia Bink.